amici di extreme hardware benvenuti a questa nuova recensione quest'oggi vi proponiamo la review di asus zenfone 5 un interessante smartphone prodotto da asus appartenente alla gamma zenfone che è composta da parecchi modelli quest'oggi andremo a recensire la versione più potente dello zenfone 5 questo smartphone infatti ha un processore intel z2580 da ben 2 gigahertz presenta 2 gigabyte di ram e 16 gigabyte di memoria interna prima di analizzare il telefono vero e proprio diamo un brevissimo sguardo alla confezione dimensioni piuttosto compatte il minimo necessario per contenere il telefono stesso confezione piuttosto sobria abbiamo su questo lato una serie di buchi che lasciano intravedere le caratteristiche del telefono sul retro tutta la serie di codici e seriali relativi al dispositivo in particolare aprendo la confezione andiamo a vedere il contenuto abbiamo la classica manualistica che spiega anche come aprire la cover posteriore dopodiché abbiamo il caricatore da parete il cavetto usb micro usb un paio di auricolari in ear e molto importante molto interessante una serie di plugs di varia misura che permetteranno a tutti di adattare al meglio gli auricolari per le proprie orecchie torniamo sul telefono vero e proprio mettiamo da parte la scatola dunque il telefono è un telefono di gamma medio bassa il costo infatti non è non è molto alto inferiore ai 200 euro in ogni caso è un telefono caratterizzato da un hardware non eccezionale ma ben bilanciato per ottenere discrete prestazioni lo accenderemo e faremo la configurazione da zero quindi come se lo lo aveste appena comprato prima di accenderlo però un breve sguardo alle caratteristiche costruttive partiamo da dire che la dimensione è sicuramente importante 5 pollici non sono pochi tuttavia lo spessore non è non è eccessivo stiamo parlando di 10,3 mm in ogni caso il telefono ha questa forma leggermente stondata che lo rende molto molto comodo da maneggiare sicuramente è necessario utilizzarlo con due mani perché con una sola mano si fa fatica a raggiungere tutti i punti dello schermo a livello costruttivo devo dire che asus ha fatto davvero un bel lavoro perché il telefono nonostante le dimensioni è comunque piuttosto comodo da maneggiare leggero e soprattutto è solido non la plastica non presenta scricchioli e la cover posteriore aderisce molto bene al resto del telefono la cover posteriore è rimovibile qui abbiamo un piccolissimo gancetto per aprirla vediamo se ce la facciamo ecco qua ben incastrata tuttavia come potete vedere non è possibile rimuovere la batteria la batteria è schermata da questi inserti in plastica con alcuni seriali comunque è necessario rimuovere la cover posteriore per accedere allo slot della scheda micro sim e allo slot della micro sd dunque memoria espandibile tornando al resto delle caratteristiche costruttive non possiamo non notare a livello frontale un bellissimo inserto in metallo spazzolato e il tema del metallo spazzolato è ripreso anche sui tasti che sono leggermente zidrinati i tasti fisici sono ovviamente il tasto di accensione ed il bilanciere del volume non vi sono altri tasti fisici poiché il telefono incorpora alcuni tasti soft touch che sono quelli necessari per utilizzare il sistema operativo vedete appunto il tasto indietro il tasto home e il tasto che permette di accedere al menu o alle impostazioni questi tasti sono stampati in bianco e non retroilluminati infatti se io ruoto il telefono in modo che i tasti siano in minor luce potete vedere come diventino sostanzialmente già invisibili alla telecamera di conseguenza in condizioni di luce piuttosto scarsa non avrete modo di vedere questi pulsanti soft touch in ogni caso sono ben sono ben distanziati quindi non si farà confusione tra tra l'uno e l'altro frontalmente abbiamo il classico logo asus e il piccolo speaker che serve per le telefonate ovviamente fotocamera frontale da 2 megapixel e tutti i vari sensori sul retro troviamo oltre ad un altro logo asus abbiamo il flash led la fotocamera da 8 megapixel e uno speaker di notevoli dimensioni che tuttavia non garantisce una resa del suono ottimale o meglio il volume massimo raggiungibile non è particolarmente elevato vedete anche sul retro il logo della intel a conferma del fatto che il processore interno a questo telefono e un intel z 25 80 da 2 gigahertz nella parte superiore abbiamo un microfono con il jack audio da 3,5 nella parte inferiore abbiamo un altro microfono e la porta micro usb andiamo ad accendere il dispositivo così vediamo anche quanto ci mette ad avviarsi logo asus in accensione questa è la boot animation devo dire non eccessivamente curata eccoci qua siamo sulla schermata di configurazione del telefono quella che appare per la prima volta quando lo accendiamo dopo averlo acquistato proseguiamo la lingua italiana già impostata andiamo a selezionare una connessione wifi ora inserisco la password eccoci qua attendiamo un attimo la connessione come vedete c'è il pallino verde quindi il wifi è connesso non impostiamo per il momento un account gmail nemmeno l'account asus saltiamo la sincronizzazione dei dati ed eccoci qua con il telefono pronto per il primo utilizzo questa è la schermata iniziale siamo quindi sul launcher di asus launcher tradizionale non eccessivamente personalizzato ci sono alcune icone modificate introdotte da asus icone relative soprattutto le riconosciamo subito a parecchie applicazioni preinstallate bisogna dire che da questo sin dal primo utilizzo insomma il telefono si comporta decisamente bene come vedete le schermate scorrono senza il minimo lag senza la minima incertezza andiamo quindi a vedere come è configurato questo launcher e proseguiamo poi con tutti gli altri aspetti del sistema operativo personalizzato da asus come potete vedere il launcher è assolutamente tradizionale possiamo aggiungere vari widget legati specialmente alle applicazioni preinstallate di asus anche la griglia delle applicazioni è assolutamente classica possiamo scendere la griglia in base a tutte le applicazioni le applicazioni scaricate o le applicazioni di frequente utilizzo di qua possiamo scegliere se visualizzare le applicazioni oppure i widget e possiamo ovviamente ricercare tra le app andiamo a vedere le app preinstallate dal produttore abbiamo un'applicazione che permette di prendere appunti rapidi scrivendo direttamente sullo schermo come vedete riesce a catturare piuttosto bene la nostra scrittura abbiamo poi il classico browser di android una calcolatrice che non è quella classica di google ma è stata personalizzata in maniera pesante così come il calendario che è variato a livello tematico i colori infatti non sono quelli che troviamo sulla versione stock di android abbiamo un'applicazione per la chat di omelet google chrome preinstallato un'applicazione di attività da eseguire chiamata do it later la possibilità di controllare i nostri download google drive anche in questo caso preinstallato l'applicazione per le mail l'applicazione per le foto in modo da sincronizzare le proprie foto direttamente con l'eventuale account google più la fotocamera e la galleria le guarderemo dopo un'app utilissima per la gestione dei file dovrete evitare quindi di scaricarvi un gestore file alternativo ovviamente gmail, google più, hangout insomma le app di google in tutte le salse le impostazioni anche qui pesantemente personalizzate a livello grafico ma non ci sono aggiunte di sorta da parte di asus se non le voci legate al risparmio energia questo lo vedremo dopo l'installazione guidata che abbiamo visto prima all'accensione i messaggi piuttosto simile alla versione stock di android l'applicazione per il meteo basata come si legge qui su acuweather quindi basterà impostare la vostra località di residenza e avrete informazioni meteo piuttosto dettagliate un'applicazione per la musica creata espressamente da asus come vedete non abbiamo ancora caricato alcun brano l'applicazione my asus legata alla possibilità di creare un account asus e registrare appunto questo dispositivo dopodiché l'orologio anche qui come potete vedere pesantemente modificato dal produttore nell'interfaccia grafica tutti i campi dall'orologio alla sveglia, cronometro e timer sono stati pesantemente personalizzati dal produttore party link è un'applicazione che ci permette di condividere contenuti multimediali attraverso il wifi direct pc link ci permette di visualizzare ciò che abbiamo sullo smartphone ciò che abbiamo sullo smartphone sullo schermo del computer qui abbiamo la rubrica il playbooks come è ovvio che sia dopodiché proseguiamo con la radio FM che ovviamente necessita delle cuffie abbiamo il registratore audio il remote link che ci permette di connettere il telefono al pc e per esempio utilizzarlo come controller wireless abbiamo l'interessantissima applicazione del risparmio energetico ve ne parleremo meglio più avanti ulteriori applicazioni per condividere contenuti multimediali come share link l'applicazione specchio che non fa altro che attivare la fotocamera frontale e permettere appunto di utilizzare il telefono come un vero e proprio specchio la modalità splendid del display permette di modificare la gamma dei colori e la temperatura degli stessi in modo da rendere i colori più o meno accesi la modalità vivace disattivata permette di avere dei colori più naturali ma un pochettino più slavati mentre la modalità vivace attivata consente di ottenere dei colori decisamente più forti, più sgargianti ma molto meno naturali ora noi la lasceremo attivata un'altra applicazione per prendere le note abbiamo tutti i tutorial vedete che abbiamo anche parecchi temi grafici sui quali applicare le nostre note ultime tre applicazioni di Asus sono la torcia che permette di utilizzare appunto il telefono come una torcia abbiamo anche la possibilità di attivare il led a livello intermittente infine web storage, la soluzione cloud di Asus e what's next ovvero una sorta di to do list insomma quel che dovremo fare in futuro dopo aver analizzato il launcher e le applicazioni preinstallate passiamo un attimo alle impostazioni come avete già visto a livello grafico l'interfaccia è stata pesantemente modificata da Asus tuttavia devo dire che l'usabilità di questo elenco impostazione è assolutamente ottimale anche la scelta delle icone è piuttosto buona mette allegria sicuramente meno sobrio e meno elegante rispetto alla versione stock di Android ma decisamente più colorato dalle impostazioni andiamo quindi a vedere l'applicazione del risparmio energia su tutti i dispositivi Asus abbiamo la possibilità di impostare una tipologia di comportamento del dispositivo il modo da ottimizzare il consumo della batteria o ridurre al minimo il consumo della batteria disattivando invece il salvataggio intelligente andremo a sfruttare il massimo delle prestazioni dell'hardware montato sul dispositivo la modalità di risparmio intelligente appunto si divide tra un risparmio ottimizzato e un risparmio di energia massimo noi abbiamo sostanzialmente sempre utilizzato un risparmio di energia ottimizzato riscontrando una discreta durata della batteria si può arrivare a sera con un utilizzo medio senza alcun problema se invece si fa un utilizzo intenso del telefono lo schermo da 5 pollici incide molto sul consumo della batteria nonostante la risoluzione sia limitata tra virgolette a 1280x720 abbiamo la possibilità poi anche di personalizzare alcuni aspetti del risparmio batteria in modo da configurarlo in maniera ottimale per i nostri scopi il resto delle voci del menu impostazioni non presenta novità di sorta se non alcune impostazioni personalizzate ASUS che permettono di modificare in minima parte il comportamento del telefono andiamo un attimo a vedere quello che è invece la schermata di sblocco eccola qua abbiamo la possibilità di accedere in maniera rapida alla fotocamera al dialer per le chiamate oppure agli sms si sblocca semplicemente facendo scorrere il dito sullo schermo vedete che lo schermo tende a spegnersi e a ridurre la propria luminosità e dopodiché ci ritroviamo nel launcher andiamo a vedere anche la barra delle notifiche anche qui pesantemente customizzata dal produttore devo dire che non ho prestato molto la scelta di mettere questo colore azzurrino sulla tendina delle notifiche in ASUS avranno fatte le loro valutazioni comunque possiamo accedere in maniera rapida alle impostazioni possiamo selezionare quelli che sono i toggle inseriti in questa parte dello schermo sono davvero molti e permettono sostanzialmente di attivare o disattivare qualsiasi caratteristica del telefono andiamo avanti e vediamo come in questa parte in verde abbiamo una serie di scorciatoie rapide per attivare per esempio la torcia, la calcolatrice o aggiungere una nota possiamo poi vedere anche la possibilità abbiamo la possibilità anche di pulire la cache del telefono chiudendo qualche applicazione inutilizzata e recuperando un pochettino di ram in ogni caso 2 giga di ram sono più che sufficienti e non si sente mai la necessità di andare a svuotare la ram in modo da ottenerne di altra libera proseguiamo nella recensione parlandovi della fotocamera la fotocamera posteriore è da 8 megapixel abbiamo parecchie impostazioni personalizzate aggiunte da ASUS possiamo infatti scegliere una modalità automatica, la modalità HDR la modalità in scatto notturno, autoritratto quindi selfie, profondità di campo in modo da fare una sorta di macro un'altra serie di settings predefiniti tra questi ho apprezzato particolarmente la luce bassa che permette di ottenere una resa discreta della fotocamera anche in condizioni di luce scarsa ovviamente non si può pretendere più di tanto la foto verrà comunque con parecchio rumore di fondo ma resta comunque una caratteristica apprezzabile in quanto consente di catturare alcuni dettagli che altri telefoni non riescono invece a percepire passando invece alla videocamera abbiamo molte meno impostazioni predefinite rispetto alla fotocamera comunque come vedete oltre alla modalità automatica abbiamo la possibilità di fare un resize di quello che è il video in modalità miniatura abbiamo la modalità luce alta e infine la modalità rallentatore dunque slow motion collegata all'applicazione della fotocamera c'è la galleria non abbiamo elementi nella nostra galleria in ogni caso possiamo dirvi che testando il telefono, la galleria come in molti dispositivi quando ci sono molte foto molti video da elaborare, da visualizzare è una delle applicazioni critiche uno dei punti critici del telefono facciamo un'analisi veloce su quello che è il comportamento attraverso il browser apriamo Google Chrome andiamo un attimo sul nostro sito attendiamo un attimo il caricamento purtroppo la nostra connessione DSL non è eccezionale tutt'altro intanto chiudiamo una scheda inutile ci siamo quasi mentre sta ancora caricando la pagina comincio a farvi vedere che comunque il comportamento del telefono nello scroll è più che buono non si può pretendere comunque una fluidità assoluta da un telefono di questo livello in ogni caso devo dire che il comportamento è più che apprezzabile il lag non è eccessivo senza contare appunto che poi il nostro sito Extreme Hardware non è decisamente leggero ci sono infatti parecchi articoli in prima pagina parecchie immagini quindi non è sicuramente il sito più leggero ed ottimizzato tra tutti quelli che potevamo prendere browser devo dire assolutamente promosso lo abbiamo testato per parecchi giorni sia Google Chrome che il browser preinstallato e il comportamento è assolutamente assolutamente apprezzabile per quanto riguarda il comportamento generale del telefono lo abbiamo utilizzato per circa una settimana e devo dire con molta franchezza che non ho notato grosse differenze nel comportamento tra il mio Nexus 4 e questo dispositivo nonostante il Nexus 4 sia un telefono ovviamente meno recente l'hardware è simile voglio dire i 2 GB di RAM sono condivisi sono presenti su entrambi i dispositivi e bisogna se devo essere sincero non ho notato grosse differenze appunto tra un Nexus 4 e questo Asus non ci sono lag di sorta non ci sono impuntamenti logicamente non si può pretendere di giocare per esempio ai videogame più pesanti avendo la modalità di massimo risparmio energetico attivato in ogni caso il comportamento è assolutamente apprezzabile e in generale in termini di fruibilità questo telefono è assolutamente promosso su tutta la linea rispetto al Nexus 4 ho apprezzato molto la fotocamera che ho trovato decisamente migliore nonostante i pixel siano appunto gli stessi 8 megapixel molto utili le applicazioni preinstallate da Asus anche se nel complesso avrei evitato di riproporre in tutte le sales le applicazioni per aggiungere delle note rapide magari ne bastava una, due, non di più invece ne abbiamo addirittura quattro mi pare comunque nel complesso un telefono decisamente buono decisamente bilanciato che si comporta molto bene sotto tutti gli aspetti bene, giunti in conclusione di recensione è giusto dettagliare in maniera veloce quelli che sono gli aspetti che ci sono piaciuti di più e quelli che ci sono piaciuti di meno di questo telefono nel complesso i punti a favore di questo dispositivo sono rappresentati dall'ottima qualità costruttiva che nonostante le dimensioni garantisce comunque di avere un telefono bello solido facilmente utilizzabile e alla fine non troppo difficile da tenere in tasca nonostante appunto i 5 pollici di schermo ci è piaciuta la personalizzazione del sistema operativo introdotto da Asus ci sono piaciute di meno invece tutte le applicazioni preinstallate presenti Asus avrebbe potuto evitare di inserire una miriade di applicazioni preinstallate dedicate per esempio agli appunti rapidi alle note alle to do list e alla possibilità di condividere contenuti multimediali con pc o con altri telefoni a nostro avviso infatti sono applicazioni che alla fine non fanno altro che appesantire il sistema ci è piaciuta anche la fotocamera che è sì da 8 megapixel non rappresenta ovviamente un'eccellenza ma si comporta piuttosto bene l'applicazione della fotocamera è realizzata realizzata bene sia per i più esperti che hanno la possibilità di settare alcune caratteristiche come il formato la qualità ISO e alcuni altri aspetti in modalità assolutamente manuale ma anche per i meno esperti che possono scegliere tra varie impostazioni predefinite dal produttore stesso ci è piaciuto il comportamento generale del telefono che funziona decisamente bene senza lag senza impuntamenti di sorta anche nei giochi si comporta in modo assolutamente apprezzabile logicamente bisogna evitare di utilizzare la modalità di massimo risparmio energetico quando si gioca ci è piaciuto meno invece il comparto audio che si comporta bene con gli auricolari nessun problema si comporta meno bene con lo speaker posto in posizione appunto posteriore questo speaker infatti garantisce una buona qualità ma a nostro avviso un massimo livello di volume piuttosto basso o meglio non a livello di quello offerto da altri dispositivi della concorrenza nel complesso comunque si tratta di un telefono molto molto bello anche elegante che soddisferà sicuramente il 99% dell'utenza altra cosa che ho dimenticato di dire è che questo telefono monta Android 4.3 tuttavia Asus ha già cominciato la diffusione la distribuzione dell'aggiornamento ad Android KitKat quindi 4.4 ulteriore aspetto per preferire questo dispositivo ad altri invece meno aggiornati magari più conosciuti e blasonati ma meno aggiornati nel complesso quindi un dispositivo assolutamente soddisfacente molto molto buono per quel che costa che offre una miriade di caratteristiche che come ho già detto soddisferanno il 99% dell'utenza Android ha alcuni punti deboli ma da un dispositivo di questo di questo livello di questa fascia di prezzo non si può pretendere troppo l'Asus Zenfone infatti si trova poco sotto i 200 euro quindi dispositivo promosso sostanzialmente su tutta la linea mi sento di consigliarlo praticamente a chiunque l'unica pecca appunto che le dimensioni non sono estremamente contenute dunque se le dimensioni non sono un problema e avete un budget intorno ai 200 euro appunto questo è sicuramente un ottimo ottimo smartphone per questa recensione è tutto ci vediamo su Xtreme un'ottima un'ottima un'ottima